E' stato approvato dalla Giunta Comunale di Mondolfo il progetto esecutivo della pista ciclopedonale che collegherà Centocroce a San Gervasio. Con questo passaggio amministrativo si potrà procedere all'avvio della gara e al successivo affidamento dei lavori. La canterizzazione dell'intervento è prevista nel 2023. Stiamo portando avanti un'azione importante su tutto il territorio comunale di collegamento tra i quartieri, con collegamenti per mettere in sicurezza i cittadini di tutti i quartieri del nostro territorio. Sono stati diversi gli interventi che abbiamo realizzato in questi anni, come ad esempio la pista ciclopedonale che collega il quartiere di Piano Marina a Marotta Centro, la riqualificazione del lungomare e anche il percorso ciclopedonale che collega Centocroce a San Sebastiano. Il percorso si svilupperà su sede propria e si estenderà per 500 metri, un investimento considerevole di circa 200.000 euro, comprensivi di progettazione, spropri e lavori finanziati in parte con i fondi del bilancio comunale e in parte con fondi ottenuti dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del progetto FAMOSE dedicato alla mobilità sostenibile Casa Scuola Casa Lavoro. Per quanto riguarda gli altri interventi legati alla mobilità sostenibile, sono in fase di conclusione i lavori per la realizzazione del collegamento di via 25 Aprile via 1 Maggio con la nuova ciclabile di Piano Marina ed inoltre la Regione Marche sta per avviare i lavori per quanto riguarda l'importante infrastruttura del ponte sul Cesano, in collaborazione con il Comune di Senigallia e il Comune di Mondolfo, quindi un'infrastruttura che permetterà di collegare le due città ed inoltre stiamo procedendo come amministrazione con l'acquisizione delle aree per la realizzazione invece della ciclovia del Cesano con un importante finanziamento che abbiamo ottenuto dalla Regione Marche di 800.000 euro che coinvolge tutti i Comuni della Vallata del Cesano con il Comune di Mondolfo Capofila. Grazie a tutti!